Salve a tutti ragazzi, sono Nick 15. Hola a todos amigos, yo soy Nick 15. Oggi vi farò pure vedere come correre più veloce. Ci sono due modi e voglio insegnare come correre ma rapido. Hai due modi. Il primo è fare passi corti. Il secondo è lungo. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividete. Ciao! Ciao!